Ciao a tutti, sono Mirko Gardella, tecnico di GB Link per Audioeffetti. Oggi vi voglio presentare il decoder per lo streaming Broadcasting TAO1 Pro di RGB Link. È un decoder dotato di un display di antiprima Full HD da 5,5 pollici ed è anche uno switcher video a 4 canali senza soluzioni di continuità con due ingressi USB 3.0 e due HDMI 1.3. Supporta lo streaming direttamente dall'uscita Ethernet che è pronta a connettersi al router esterno basato su cloud e lo streaming da anywhere a everywhere. TAO1 Pro è compatibile con le telecamere standard USB 2.0 e USB 3.0 con protocollo UVC e si presenta come uno strumento di streaming molto conveniente e facile da usare per chiunque. TAO1 Pro dispone di un pannello tattile e due batterie caricabili opzionali. Plaggando i segnali di ingresso alle porte USB 3.0 e HDMI 1.3 sarà possibile vederne la risoluzione sul touchscreen da 5,5 pollici, mentre attraverso l'output HDMI e l'output jack audio sarà possibile monitorare i segnali video e audio in uscita. Sul lato sinistro del TAO1 Pro è presente una porta LAN che può essere collegata al router tramite cavo categoria 5e o categoria 6. O in alternativa, TAO1 Pro può essere connesso in modalità wireless tramite scheda SIM per lo streaming live. Una volta premuto il pulsante di accensione per accendere il TAO1 Pro, il display mostrerà il logo TAO ed entrerà nel menu principale. Collegato il segnale di ingresso predefinito, l'operatore potrà, mediante il controllo touch del menu, configurare il TAO1 Pro per funzionare a seconda della modalità richiesta. Per configurare il TAO1 Pro come switcher basterà collegarlo come da immagine. Successivamente, premendo HDMI 1 nella parte in alto a sinistro del menu, comparirà una tendina su cui potremo selezionare l'ingresso da mettere in program. Le varie sorgenti sono visibili con una colorazione come da tabella. Selezionando una sorgente evidenziata in verde, l'icona diventerà bianca e comparirà sullo schermo del TAO1 Pro. Toccando la una seconda volta, l'icona diventerà rossa e la sorgente passerà sull'uscita video HDMI in program. Per utilizzare la funzione di recorder del TAO1 Pro basterà inserire una chiavetta USB nella porta record. Successivamente, selezionare il tasto REC in basso a destra del menu del display. Nella finestra che comparirà, selezioneremo il record per dare inizio alla registrazione. Dopo aver collegato il TAO1 Pro alla rete internet come mostrato nell'immagine, ci basterà collegarci alla piattaforma stream che vogliamo utilizzare, come ad esempio il proprio canale YouTube, e recuperare lo stream URL e la stream key. Una volta recuperati, ci basterà creare un file text il cui formato deve essere compilato come in sovraimpressione. e salvarlo su una chiavetta nominandolo rtmp.ini. Dopo aver inserito la chiavetta nel TAO1 Pro, entreremo nel menu Event Setting mediante l'apposito tasto sul touchscreen e successivamente premendo il simulare più per creare l'evento da condividere. A questo punto, compileremo i campi di nome e time per poi premere il tasto Create. Il nostro evento è ora visualizzabile nella schermata degli Event Setting e premendo il tasto Edit andremo a selezionare la piattaforma su cui vogliamo condividerlo. Selezionando prima il logo e premendo successivamente Add. Chiudiamo la finestra di selezione della piattaforma di streaming, abilitiamo la piattaforma attraverso l'apposito tasto del menu Platforms e premiamo Next. Selezioniamo i parametri dello streaming e diamo il comando di conferma. Per finire, premendo il tasto On Air, potremo dare inizio allo streaming e il logo della piattaforma usata contornato di verde ci segnalerà che il TAO1 Pro sta condividendo l'evento correttamente. Se vuoi avere informazioni su disponibilità e prezzi sul TAO1 Pro di RGB Link, non devi far altro che chiamare subito il nostro reparto commerciale a questo numero. Oppure scrivere una mail a ordiniitalia.chiocciolaaudioeffetti.it Per avere informazioni tecniche sui prodotti RGB Link, invece, scrivi una mail a string.chiocciolaaudioeffetti.it e saremo lieti di risponderti. Ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornato. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video. Da Mirko Gardella, ciao! Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.